zombie apocalypse ciao ragazze ciao ragazzi allora oggi nuovo video prima di incominciare questo video vi invito ad iscrivervi al canale condividere il video spolliciare in su per me e attivare la campanella allora oggi nuovo video volantino questa volta vi farò vedere il conad che incomincia proprio oggi dal 30 gennaio a domenica 10 febbraio allora partiamo subito con la passata pomì che proprio oggi l'ho comprata poi qui troviamo il caffè lavazza che devo dire che se avete la carta conad è un ottimo prezzo poi per quanto riguarda la parte diciamo gastronomica abbiamo i teneroni poi ci sono gli yogurt la certosa la farina per quella che si usa per la polenta gli ustero questi sono quelli grandi la sfogliata tradizionale che alla fine sarebbe la piadina poi abbiamo i funghi porcini la polenta la polenta ai funghi porcini e ai formaggi poi abbiamo i dadi poi qui troviamo il tonno in vetro i filetti di tonno i carciofini c'è l'acqua panna i biscotti atene poi troviamo i ringo c'è l'acqua san benedetto e i cereali per i bimbi poi troviamo la gastronomica tipo quella al limone poi c'è l'arancia poi abbiamo le sfogliadelle queste sono buonissime ragazze poi abbiamo le tisane poi ci sono il vino poi c'è il vino poi abbiamo i prodotti per i nostri amici a quattro zampe ecco l'acqua fagiolini congelati bastoncini findus o gortemble l'umino bianco più igienizzante detersivo più in igienizzante poi abbiamo la carta di alluminio le pasticche finish queste qui poi abbiamo detersivo tipo il perlana poi abbiamo il dentifricio e le ricariche di sapone tab poi nel reparto macelleria ci sono la luce la lonza a fette poi troviamo l'arrosto poi ci sono gli spiedini il pollo poi abbiamo la coppa poi abbiamo le bistecchie che tra l'altro il 5 febbraio è a questo prezzo poi abbiamo la pesa di tacchino e la carne macinata per quanto riguarda il reparto ortofrutta ci sono le melanzane che infatti le ho prese anch'io le pere i pomodorini a questo prezzo qui poi troviamo le rape rosse le mele che anche queste abbiamo preso poi abbiamo i limoni l'insalata classica e le arance poi andiamo avanti nel reparto diciamo formaggi troviamo il latte questo qua scremato lo yogurt greco il parmigiano reggiano 13,90 euro al chilo poi abbiamo altro tipo di yogurt greco poi abbiamo il fior di mozzarella la robiola e di qua poi partono i salumi quindi la mortadella prosciutto cotto poi di qua abbiamo il vino e il pecorino poi abbiamo il petto di tacchino poi abbiamo quest'altro tipo di vino doc e abbiamo il treccione affumicato che questo pure è molto buono tipo la provola affumicata per intenderci poi abbiamo per quanto riguarda lo speck poi abbiamo il prosciutto di norcia e il pecorino romano poi abbiamo il caciocavallo il parmigiano fatto a spicchio così grande e il salame quelli piccolini i mignon fatti tutti in questo modo qui poi poi per quanto riguarda la pasta abbiamo i troccoli i troccoli pugliesi dei sapori dei sapori dintorni poi c'è la pasta fresca questi sono i tortellini poi abbiamo il burro la burrata pugliese il riso poi abbiamo la presaola e gli usteri quindi fatti in questo modo qui io sinceramente non compro mai poi abbiamo la ricotta prosciutto il vino bianco le nocciole le nocciole piemontesi e le patate poi continuando ancora abbiamo l'olio girasole ottimo per i fritti poi abbiamo l'olio costadoro olio extravergine di oliva coca cola poi abbiamo la birra che anche questa abbiamo preso poi c'è la iocca il mascarpone la mortadella fatta in questo modo qui e il detersivo sulle ragazze che io normalmente prendo sempre le ricale se avete visto il video dei detersivi top io utilizzo le ricariche ed è davvero buono poi la farina barilla le tagliatelle emiliane barilla all'uovo poi abbiamo il granja gustar e il dado star poi come pasta abbiamo ancora la tivella vari formati in varie tipologie poi abbiamo la maionese calvè e la polpa di pomodoro e di qua abbiamo il tonno quello che solitamente è questo poi abbiamo il pure di patate le vette biscottate poi abbiamo la zuppa di fagioli i minestroni insomma tutte queste varianti di verdure di legumi e quant'altro a un euro poi abbiamo i croccanti conad che sono praticamente i cereali per bimbi i panini al latte i cornetti questi dovrebbero essere quelli vuoti mentre questi sono quelli con la crema penso questo da dietro penso che sia quello con la cioccolata poi abbiamo Kinder colazione e più la cioccolata anche questa ho acquistato il ciobar tra l'altro questa è quella fondente io ho preso quella fondente la rossa poi abbiamo il ciobar la marmellata che io ho preso però c'è anche il miele poi c'è il miele poi abbiamo le capsule per il caffè espresso Kimbo poi abbiamo i frullini biscotti secchi poi abbiamo il vino e di qua abbiamo i fi e poi di qua abbiamo il cibo per i gatti di qua troviamo una selezione di Vanish di prodotti Vanish poi abbiamo il fior di filetto di merluzzo carta asciugotto della Foxy qui troviamo minestroni, zuppe insomma un po' di tutto a questo prezzo qua poi troviamo la pizza congelata poi abbiamo l'ammorbidente e la candeggina Conad poi di qua troviamo la carta igienica Conad poi abbiamo la linea shampoo e balsamo tra dolce e garni in promo poi di qua abbiamo il bagnofiuma con varie profumazioni di qua abbiamo la linea d'odorante borotalco poi abbiamo il dentifricio e le compresse effervescenti per le protesi raga poi per quanto riguarda la sezione bio troviamo la zuppa di orzo poi c'è il roll on classico il bone roll classico le sassicce poi abbiamo il prosciutto cotto c'è quello crudo poi troviamo quello a cubotto quelli tutti i cubetti piccolini tagliati yogurt le lasagne fresche troviamo ancora una volta il miele poi qua abbiamo gli infusi poi abbiamo l'orzo no poi abbiamo lo zucchero di canna il riso integrale questo qua la pasta garofalo e ancora cioccolata poi di qua abbiamo il galac la cioccolata bianca il brio blu l'acqua e di qua troviamo il frullato valfrutta acqua minerale da sei bottiglie da sei bottiglie da sei 0,65 centesimi poi il vino questo è un altro tipo di vino poi abbiamo il diffusore elettronico poi di qua abbiamo la ricarica elettronica spray ambi diodorante per gli ambienti il cibo per i nostri cagnolini le pile poi abbiamo le ricariche quelle per gli spazzolini quelle che hanno la ricarica e ancora pile e questo è quanto ragazze questo è il volantino per quanto riguarda il conad che vi ricordo che parte oggi giorno 30 fino al 10 febbraio quindi se vi interessa qualcosa che avete visto da questo catalogo correte per quanto riguarda questo video è tutto io vi ricordo di iscrivervi al canale per attivare la campanella lasciarmi un bel like e condividere il video mi raccomando sono anche su instagram come fortuna fashion makeup come sempre giù trovate tutti i link inerenti ai social vi aspetto al prossimo video ciao ragazze ciao